su una pera e una mela cosa dicono quando giocano a carte pesca la pesca può essere un frutto la pesca può essere l'attività di prendere pesci la pesca può essere una lotteria di beneficenza in questo video vuol dire prendi io mi chiamo Salvi ciao a tutti vi raccomando non perdete i prossimi video ciao a tutti ciao 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 ciao